Abbiamo vinto, abbiamo vinto il derby a culo, a culo abbiamo vinto il derby, abbiamo vinto il derby, micchi amici appassionati di grande calcio, benvenuti su Mollerino Sport Channel, abbiamo vinto il derby, non si sa come, non si sa perché, abbiamo vinto il derby d'Italia, il derby di Torino dopo che per 70 minuti avevamo fatto schifo al cazzo, dopo che il Torino è passato in vantaggio con culo, dopo che mi stavano diventando i capelli bianchi a forza di insultare Di Bale e Rabbiò che al fantacalcio avevano preso 5 e 5, a insultare quel cazzo di culuseschi, porca miseria, quel cazzo di culuseschi, Poi meno male che pennavorta pirlo a zecche gambi, poi non è che dice a zecche gambi, è che ha quelli in panchina quindi devi mettere per forza quelli, entra quel cazzo di McKennie, entra McKennie e ci riesce a portare in pareggio grazie a un cross col contagiri di quadrato, poi goll uguale, goll uguale il secondo, sempre assist di quadrato, colpo di testa da parte di Bonucci, fallito Torino, abbiamo vinto all'89esimo minuto e godo, 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 perché poteva essere uno sfogo, fino all'89esimo era uno sfogo annunciato, perché questa squadra non ha gioco, questa squadra senza punte non sa giocare, manca una punta in mezzo, manca una punta, dirigenza, quando non c'è Morata, come fai a giocare senza punte, perché non mi dite che Ronaldo è una punta, dai, palesemente svari ovunque, non è una punta, Di Bala, siamo riusciti a vincere una partita in 10 contro 11, perché giocare con Di Bala è uguale a giocare in 10 contro 11, in 10 contro 11, ha sbagliato gli appoggi, rallentava l'azione, mi ricordo che c'eva un pallone sulla fascia sinistra, l'ha passato e l'ha tirato, l'ha tirato a fanculo, veramente un qualcosa di clamoroso ragazzi, non potete capire, non potete capire, non potete capire, mamma mia, comunque ragazzi, sta di fatto che questa squadra ancora non va, ancora questa squadra non va, ci saranno sicuramente l'assenza che si fanno sentire, ma questa squadra non va assolutamente, non riesce a imprimere il ritmo alla partita, il Torino, per come si è difeso, forse meritava qualcosina in più, ma è pure vero che non a caso il Torino è la squadra che da situazioni di vantaggio ha perso più punti tutta la Serie A, non a caso. Comunque il gol, ecco, parliamo un attimo Serie dopo questi due minuti di delirio totale, perché c'è stato un gol non convalidato a quadrato, che contro il Torino si scatena, ricordate la partita di Halloween di 5 anni fa quando vincemmo 3-2 e cambiò totalmente quella stagione dopo la disfatta di Sassuolo con la punizione di Sansone. Io spero che questa vittoria valga come quella vittoria per 3-2 che poi ci fece fare una cavalcata incredibile. Io non ci credo, però lo spero. Parliamo del gol annullato a quadrato. Giustissimo, giustissimo annullare il gol, secondo me, perché Bonucci ha interferito sulla possibilità di intervento da parte di Lianco, non tanto sulla non parata di Siriku, ma quanto sull'intervento possibile da parte del difensore Granata. Quindi ora ho sentito molto dire, ah ma non è fuori gioco del quadrilaccio. Orsata ha fatto la cosa giusta, a mio avviso ha fatto la cosa giusta. Ora ragazzi si fa al Camp Nou, martedì a scepparne 4-5, non si sa come, tanto è una partita inutile perché non riusciremo mai a ribaltare il 2-0 dell'andata. Quindi che dire ragazzi, speriamo bene, poteva essere uno sfogo, non è stato uno sfogo, cose clamorose, cose assurde. Ancora sta squadra però non è la Juve ragazzi. E non so se mai tornerà tale, intanto la luce che va avviene, bordelli vario, intanto chiude il video che è meglio, ciao ciao.